signori i viaggiatori del tempo fin del 1964 che è un piccolo gioiello piccolo capolavoro fatto molto 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 bene c'è qualche cavolata ma tante piccole cose sono carine da vedere questo potrebbero anche fargli un bel reboot non uguale però hanno tirato fuori tante cose che nessun film tuttora ha preso mi sembra che ci sia ancora in l'ho preso da poco questo qua mi sembra su 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 amazon o su ibs non mi ricordo questo ve lo consiglio voto 8 non di più però